Ultima domenica prima della Domenica delle Palme, ovvero dell'inizio della Settimana Santa. La liturgia ci propone un Vangelo intenso, ricco della presenza di Dio, oserei dire un concentrato di fede. Sarebbe meraviglioso poterlo analizzare versetto per versetto, ma ci prenderebbe troppo tempo. Allora, vista la portata di questo brano evangelico, mi voglio soffermare su due punti. La frase dei greci, Signore vogliamo vedere Gesù, e la frase di Gesù, se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Che bella la richiesta dei greci, Signore vogliamo vedere Gesù. In ognuno di noi c'è questo profondo desiderio, almeno per sapere se esiste. Certamente c'è un po' anche di curiosità, ma soprattutto ognuno di noi vuole vedere, riconoscere quel volto e quel cuore in cui crediamo, in cui da oltre duemila anni uomini e donne hanno creduto e dato anche la vita. Non dimentichiamoci però che questa richiesta viene dai greci. E al tempo di Gesù questa popolazione era politeista, tante divinità, alcune le ricordiamo a memoria, Zeus, Apollo, Artemide, Hermes, Poseidone. Ma allora, come rispondere a questi greci? Chi può far vedere il volto di Gesù? La persona di Gesù agli altri. Chi può farla incontrare? Bene, chi conosce la strada per incontrare Gesù? Chi lo ha già incontrato? Chi è capace di descriverlo? Chi dall'incontro con Gesù ha cambiato la vita? Ha capito? Grazie a quell'incontro che c'era un di più nella vita di tutti i giorni, che un senso di vuoto era tolto e iniziava a vivere la pienezza nella vita. A volte anche noi crediamo di conoscere da tempo Gesù, ma in realtà è solo un'idea. Abbiamo forse tanta dottrina, tante norme, tante esperienze religiose. Ma ci sentiamo pienamente soddisfatti dell'incontro con la persona di Gesù? Ecco, questi greci infatti si avvicinano a chi per porre questa domanda? Ad un discepolo di Gesù, Filippo. Oggi, come nei primi secoli, sono i discepoli di Gesù a farci incontrare e vedere il volto di Gesù. E allora chi sono i discepoli di oggi? Anche se non ci crederai, sei tu un discepolo del 2024, un discepolo di Gesù dei giorni nostri. Ognuno di noi è chiamato a indicare Gesù al prossimo. Ognuno di noi è chiamato a testimoniare la fede senza paura, senza timore. Ognuno di noi è chiamato a far vedere come la debolezza e la fragilità umana vengono coperte dalla potenza e dalla misericordia dell'amore di Dio. Ognuno di noi è chiamato a evangelizzare così, con la tua vita, con le tue ferite, con le tue paure e con i tuoi dubbi. Mi viene in mente una meravigliosa frase di San Giovanni Paolo II, che disse in Canada, a Toronto, il 27 luglio 2002. San Giovanni Paolo II disse «Voi siete gli uomini e le donne di domani. Nei vostri cuori e nelle vostre mani è racchiuso il futuro. A voi Dio affida il compito difficile ma esaltante di collaborare con Lui nella edificazione della civiltà dell'amore». Allora non avere paura. Tu sei questo uomo o questa donna a cui il Signore chiede di diventare testimone del suo volto, del suo amore, della sua misericordia. Accetta a questo invito. Non avere paura come tu hai incontrato Gesù, con le tue fatiche, con le tue paure. Puoi testimoniarlo agli altri e la tua testimonianza è preziosissima. Allora vengo alla seconda frase, quella che dice Gesù. Gesù dice «Se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo. Se invece muore produce molto frutto». Una frase non facile da interpretare, però una frase perentoria, a tratti assurda, enigmatica. Ma è la risposta di Gesù ai suoi discepoli affinché potessero rispondere ai greci. Cioè il mondo ci indica che la via migliore per vivere è quella senza guai, senza problemi, senza dolore. Una vita che deve essere riconosciuta dallo sguardo altrui, ovvero sono gli altri che devono giudicare la nostra condotta di vita, come se gli altri fossero delle divinità. Spesso noi siamo politeisti, ovvero vediamo gli altri come delle divinità che ci devono giudicare, che devono dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato della nostra vita. No, assolutamente no. È un'immagine sbagliata. Perché invece lo sguardo deve essere quello di Dio. Deve essere lo sguardo misericordioso e amorevole di Dio sulla nostra vita. Allora cosa vuol dire Gesù ai greci e a noi con questa frase in questa fine quaresima? Vuole dirci che per rinascere dobbiamo, tra virgolette, morire. Ma morire a cosa? Morire alle tante divinità, ai tanti idoli che ci tengono legati. E quali sono allora queste divinità, queste idolatrie, che magari non vediamo ma che esistono. Ad esempio il lavoro, il voler far carriera a tutti i costi, il voler aver successo, il voler avere sempre uno sguardo benevolo degli altri e quindi per il quieto vivere dire sempre di sì agli altri. Ecco, ricordiamoci che queste cose promettono e non mantengono. Infatti spesso a causa di questa illusione noi viviamo una delusione. I greci, lo ripeto, erano politeisti, avevano degli dei per ogni occasione e oggi magari ci sono tante piccole divinità a cui noi ci leghiamo per le diverse occasioni della vita. No, facciamo cadere queste divinità perché non sono il vero Dio. Dobbiamo farle morire perché dobbiamo innalzare l'unico Dio che chiamiamo Padre, che chiamiamo Salvatore, colui che ci dona la luce per camminare nelle tenebre della vita. Noi possiamo veramente volare in alto nella vita ma dobbiamo lasciare dei pesi inutili. Mi piace vedere che l'umanità, noi uomini e donne, siamo come delle mongolfiere, che dobbiamo abbandonare delle zavorre che non ci fanno innalzare verso l'alto dei cieli ma che purtroppo ci tengono troppo schiacciati a terra illudendoci che un giorno o l'altro tutto cambierà. Quindi, alla luce di questa frase del Vangelo di Gesù e anche con l'esempio della mongolfiera, oserei dire che ci sono delle morti, tra virgolette, che ci fanno diventare santi, che ci fanno camminare verso il paradiso. Eccone alcune. Il volontario che fa morire il suo tempo per fare volare gli altri. Il fidanzato che fa morire i suoi hobby per far volare l'amore, il noi. Il genitore che fa morire la sua iperprotettività per far volare i figli. Gli sposi che fanno morire il loro egoismo per volare insieme nel donarsi l'uno all'altro. Il cristiano che fa morire la sua superbia per far volare in alto la sua fede. Tutte queste morti danno una nuova luce alla nostra vita perché ci fanno risorgere da quelle croci che ci tengono inchiodati alla mondanità di oggi. Certamente non è facile accettare questo discorso di Gesù. Ma è un discorso che ci fa progredire nel cammino di fede. Ovvero imparare a obbedire a Dio e non solo al proprio io. Il senso della vita cristiana si gioca tutto sui frutti. Sui frutti che noi possiamo portare, ovvero su una vita donata. Ricordatevi che il Signore non ci chiede la perfezione di vita, ma ci chiede la santità di vita. Un cuore che sappia amare, amare Dio, amare la propria vita e amare quella degli altri. Una vita che possiamo vivere anche ammaccata, ma soprattutto riconosciuta, amata e perdonata.